L'edizione numero 36 dell'America's Cup si disputerà ad Oakland, in Nuova Zelanda, nel 2021. Lo ha confermato Emirates Team New Zealand dopo l'accordo di principio, raggiunto, tra il governo e il Consiglio di Oakland su un piano definitivo sviluppato da Emirates Team New Zealand. Ora si attende solo l'approvazione da parte del Consiglio di Oakland e l'ultima firma del Ministro delle Finanze Grant Robertson, video America's Cup, come funziona una regata.